Vogliamo responsabilizzare maggiormente i giovani di fronte alla possibilità di andare a vivere da soli e aiutarli a comprendere i vantaggi che le leggi vigenti prevedono, hanno dichiarato i ragazzi che compongono la Commissione Case e Ambiente della Consulta Regionale dei Giovani del Piemonte. A questo scopo hanno organizzato il convegno Aspetti dell'attuale crisi finanziaria e mercato dell'abitazione che si è tenuto a Palazzo Nuovo a Torino il 16 aprile. Questa crisi economica non è la prima della storia né sarà neanche l'ultima, c'è degli elementi di continuità e di similitudine con crisi che sono avvenute nei tempi passati, in modo particolare con le bolle speculative del 600 e in epoca successiva. Ha delle caratteristiche però di novità per quanto riguarda soprattutto l'interazione con il debito pubblico e i mercati finanziari. Il problema dell'interazione debito pubblico e mercati finanziari è anche qui, se è un elemento di novità per le dimensioni e le gravità non lo è come in sé, perché noi abbiamo visto che anche in epoche passate, per esempio la Spagna di Filippo II, era fallita proprio per un problema di debito pubblico. Grazie. 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 Grazie.